Dov'è finito, James? Ehi, amico. È tutto a posto? Per adesso sì. Per adesso? Non hai una bella cera, capo? Oh, no 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 no, intendevo che quest'anno mi ha lasciato a pezzi, ed è assurdo come tutto si è cambiato così in fretta e senza preavviso. Ad ogni modo, questa sensazione è temporanea. Starò bene, lo prometto. Noi umani non stiamo mai davvero bene, per questo non dovresti fare promesse che non puoi mantenere. Ma insieme possiamo affrontarlo, con la speranza. Ed è ciò che ti occorre adesso. Prima di ogni altra cosa, ti serve speranza. Wow, sei fantastica. È bello avere amici come te. Questo è perché alla fine tutto ciò a cui penso sei tu. Grazie, Claire. Ricorda sempre, tesoro, c'è speranza. C'è sempre speranza. Grazie a tutti.